Amici e amici di Super J, buonasera, benvenuti, ben ritrovati a questa nuova puntata di Abruzzo d'eccellenza, siamo in diretta sul canale 16, Pietro Baldassarre e Francesco Di Carlo in cabina di regia, siamo pronti per raccontarvi la trentesima giornata del principale campionato dilettantistico abruzzese tramite i nostri servizi, come sempre saluto Fabrizia Cardinale. Buonasera Lorenzo e buonasera a tutti. Tanti gli argomenti di cui parleremo questa sera, insomma raccontandovi le varie partite, ma come di consueto all'inizio appunto di questa puntata di Abruzzo d'eccellenza e come tutte le altre, lanciamo il nostro super spot. Trentesima giornata oggi che si è disputata nel campionato di eccellenza e c'è già un primo verdetto, ovvero la prima retrocessione matematica per il Foscesia che ha perso contro il Teramo sul campo di Montorio, ma andiamo a vedere insieme tutti i risultati e poi la classifica. Capistrello 2000 Calcio Montesilvano 1-1, Casalbordino Giulianova 2-3, Cassel Nuovo Torrese 0-0, Città di Teramo Union Foscesia 5-1, Folgore Delfino Curie Pescara Ovidiana Sulmona 2-1, Ponte Pomano Sant'Egidiese 0-0, 1-1 tra San Buceto e Celano, Spoltore Vastese 1-3, Virtus Cupello, Renato Curie Angolana 2-1. La classifica che vede al comando il Teramo con una gara ancora da recuperare è quella contro la Renato Curie Angolana, 75 punti, 70 punti per il Giulianova 58, per la Folgore Delfino Curie Pescara 51, Castelnuovo 50, Renato Curie Angolana 45, Vidiana Sulmona 43, Torrese 41, Virtus Cupello 40, Vastese, Casalbordino 39, Celano 38 insieme allo Spoltore, San Buceto e Ponte Pomano insieme a quota 35 punti, 32 punti per il Capistrello, 26 punti per la Sant'Egidiese, 21 per il Montesilvano e 10 per il Foscesia che come abbiamo detto è matematicamente retrocesso e giocherà in promozione. Questo è il primo verdetto, tra l'altro vedendo proprio la classifica nella parte destra di fatto non avrebbe un'altra parte di un'altra parte di un'altra. non ha vinto nessuno, soltanto sconfitte pareggi e partiamo proprio da uno di questi pareggi, era di fatto anche uno scontro diretto, quello tra Capistrello e Montesilvano finisce 1 a 1, ci racconta tutto nel servizio Luca Di Giampietro. Dicesi tranquilla partita di bassa classifica, ecco questo non è stato Capistrello-Montesilvano, il veleno è nella coda, a volte anche nella testa, a metà e in ogni dove, nervi tesi, queste sono due parole chiave, e poi si parla di terna arbitrale, di pietre di sassi e di sottigliezze linguistiche. Non ci avete capito niente? Bene, nemmeno io, con sorte a terra in pieno recupero, per me significava infortunio, e invece, nelle parole di mister Antignani, mi premio a sottolineare che io ho dovuto togliere un ragazzo a sette minuti dalla fine, perché ha preso una pietrata in faccia dalla tribuna, e sono stato costretto a giocare, a mettere un ragazzino del 2005, quindi a privarmi di un ragazzo per gli ultimi sette minuti, mi auguro che dalle immagini si vedano, che scrivano qualcosa, anche perché non c'era, da quello che mi risulta, non c'era nemmeno un'ambulanza. E poi c'è Vuccia d'Imboscop, e adesso che c'entra il mitico di rete? C'entra, c'entra, rigore è quando arbitro fischia, che da oggi invece suona più o meno così, rigore è quando arbitro fischia rigore, perché quello che vedete nelle immagini sembra un calcio di rigore, ma in realtà è un calcio di punizione, e Vittorio Palleschi l'ha presa bene. Vittorio Palleschi, credo che tu abbia qualcosa da dire. Ma assolutamente, la partita fondamentale della stagione, mandare una terna, vabbè, lo uso questo termine, schifosa, perché questo non è più possibile, non è più accettabile, questa è una partita fondamentale, noi ci stiamo giocando la salvezza diretta, al primo tempo non puoi non dare quel rigore lì. Nelle immagini e montaggio di Stefano Cianfarani, seguiteci per vedere il resto. Appena 5 minuti e Fischetti ci ricorda di cosa sia capace, sgroppata sulla fascia, piattone di precisione, ma non abbastanza per portare i suoi avanti di uno. Capistello comunque pimpante sul pezzo, Montesilvano guardingo e sterile, e così al diciannovesimo, Fischetti recrimina di nuovo con i centimetri. Il tiro cross è un chiaro esempio di cosa sia un ibrido. Intorno alla mezz'ora, però gli ospiti sembrano trovare la quadratura del cerchio e iniziano a salire di tono. Mentre ottesimo ci prova un positivo Valerio, che trova Brassetti sul primo palo. Quarantatreesimo, il primo fattaccio si compie. Di Marco viene atterrato davanti al portiere ospite. Per il direttore di gara non è il rigore, noi ci perplimiamo e poi ci catapultiamo in avvio di ripresa quando il capistello si assenta per qualche minuto, ma Petito, a tu per tu con Brassetti, non ne approfitta. Nuove proteste locali per questo fuorigioco, sbaglierato a Salvati, lanciato verso il vantaggio. La circostanza che lascia un po' dubbiosi è che gli sbaglieramenti a scapito di Granata oggi si sono contati nell'ordine delle decine. Soprassediamo e impallidiamo nel vedere come Ocante eviti di calciare di sinistro, esponendosi a un destro, ma al destro al settimo. Montesilvano sempre di più sul pezzo e al nono Petito cannoneggia in maniera impavida e quasi risolutiva. E così piuttosto naturale, all'undicesimo arriva la rete adriatica con Piovani che serve Petito solo soletto al centro dell'aria, preciso nel trovare il pertugio vincente. Gelo a Capistrello, l'aria si ghiaccia, anche il morale è Palentino, ma tocca a Fischetti ovviamente suonare la sveglia ai suoi al diciassettesimo, con un tiro franco liftato che mette in imbarazzo intera l'eroguardia ospite, ma Valerio appostato nei pressi della linea salva i ragazzi di Antignani dalla capitolazione. Ventesimo, Ocante si imbola, carica la botta, ma Barbarossa si immola e devia in angolo con raro tempismo e mestiere. Sugli sviluppi del tiro d'angolo, Gutu, sottoporta libera un piatto sfizioso ma non indigesto per il Montesilvano. Ventinoesimo, Brr come Brividi e come Brassetti che tira addosso al neoentrato Gian Pietro per poi controllare e non aver fatto danni irreparabili. Trentesimo, Fischetti nuovamente Assismen, ma l'altro neoentrato Ciaccia perde il treno buono per la deviazione sul secondo palo. Trentottesimo, duello consorte Daniele di Girolamo, quest'ultimo riesce comunque a calciare ma viene rimpallato. Poi al novantesimo, l'imbucata per Fantavuzzi, ridà la luce ai capistrellani che provano a mettere la freccia. Intanto al quarantasettesimo, Petito tenta il nuovo sgarbo direttamente su punizione. Palla a lato ed Eliocante a terra in piena area ospite maltrattato e spintonato. Per il direttore di gara non è il rigore e l'aria si accende. Ci rimette consorte, come non lo sappiamo, ma la palla ora passa al giudice sportivo. Vittorio Palleschi, credo che tu abbia qualcosa da dire. Ma assolutamente, la partita fondamentale della stagione mandano una terna, vabbè, lo uso questo termine, schifosa, perché questo non è più possibile, non è più accettabile. Questa è una partita fondamentale. Noi ci stiamo giocando la salvezza diretta. Al primo tempo non puoi non dare quel rigore lì. È assurdo quello che ha fatto. Se non dai quel rigore come minimo allora quella lì è espulsione. Al secondo tempo c'era un'altra occasione potenzialmente da rigore. Allora, adesso basta. Cioè, questo non è accettabile. Non è accettabile. Noi ci stiamo giocando la salvezza diretta. Ma come si fa? Il Guardialine, il Guardialine ha ammesso che quello lì era calcio di rigore. Se lo ammette un assistente di linea come si fa a non dare? Il Guardialine, che ci sa fare il Guardialine se non può aiutare l'arbitro? Poi, a fine primo tempo ammette che è rigore. A fine partita ammette che è rigore. Noi lì andiamo 1-0 e loro rimangono in 10. La partita cambia totalmente. accettabile. Qui si fanno sacrifici da agosto ad aprile. Questo non è accettabile. Mister Antignani, è una partita piena di rimpianti. D'ambola le parti in realtà. Guarda, io come ogni domenica ti dico che i miei ragazzi mi hanno fatto solo un applauso. Abbiamo giocato su un campo difficile. Avete visto tutti quello che è successo. Siamo andati in vantaggio. Abbiamo sferato più volte il gol. Così come anche loro hanno fatto una grande partita. Due buone squadre che secondo me né noi meritiamo la retrocessione e nel loro meritano la classifica che hanno. Detto questo mi preme sottolineare che io ho dovuto togliere un ragazzo a 7 minuti dalla fine perché ha preso una pietrata in faccia dalla tribuna e sono stato costretto a giocare a mettere un ragazzino nel 2005 quindi a privarmi di un ragazzo per gli ultimi 7 minuti. Mi auguro che dalle immagini si vedano e che scrivano qualcosa anche perché da quello che mi risulta non c'era nemmeno un'ambulanza. Quindi se in eccellenza oggi stiamo a queste cose qua non me ne voglio dalla società Capistrello perché ho tantissimi amici e io non ce l'ho con loro però sono cose che sui campi di calcio io personalmente non le capisco a noi non è mai successo spero che non sia mai successo anche a loro perché ripeto li conosco tutti quanti però io mi sono dovuto privare di un giocatore per 7 minuti che ne so che succedeva quei 7 minuti? Avrà un seguito vicenda a parte vostra? Eh no lo so io poi deciderò la società io non so che dirti io mi prendo questo punticino che mi allunga un filo di speranza non so gli altri risultati quindi comunque mi allunga un pochettino di speranza il resto corre a Mario che se vincevo magari mi si riapriva anche qualcosa. E a proposito di match salvezza noi ci spostiamo al Caprarese di Spoltore dove la Vastese ha calato il Tris e ha portato a casa tre punti ci racconta tutto Stefano Vecelio con le immagini di Cristian De Luca Al Caprarese di Spoltore gli azulgrana di Ronci si giocano una buona fetta di salvezza nel match contro una diretta concorrente come la Vastese distante solo un punto in classifica partita che si sblocca subito all'ottavo minuto spiovente in area che sorprende la difesa dello Spoltore ne approfitta Sannino che sbuca dalle retrovie e di testa batte Pelusi per il vantaggio Vastese la reazione degli azulgrana arriva al 24esimo con la pennellata di Ventola che trova la testa di Ranieri pallone che sibila di poco a lato i pericoli maggiori arrivano però dagli Aragonesi al 34esimo il filtrante di Morleo pesca in area Sansone ma è superlativa la risposta di Pelusi al 39esimo cross in mezzo di Sant'Angelo che trova Morleo decisivo ancora l'intervento di Pelusi che salva i suoi ripresa che vede ancora gli ospiti spingere sull'acceleratore e al 62esimo arriva il raddoppio con Centorame bravo a sfruttare l'assist di Morleo e a depositare in rete per il 2-0 Biancorosso nonostante doppio svantaggio lo spoltore non si perde d'animo cambia modulo mettendo due punte inizia ad attaccare con carattere al 71esimo Ventola viene atterrato in area azione che prosegue i padroni di casa che protestano ancora per un presunto fallo di mano in area di Caterucci ma in entrambe le occasioni il direttore di gara fa proseguire ricorre cercato che viene poi concesso al 75esimo per un netto body check sul Ranieri il bombella sul grana va sul dischetto e trasforma alla perfezione per il gol che riaccende le speranze di riacciuffare il match per lo spoltore passano solo i tre minuti al 78esimo gli uomini di Ronci vanno a un soffio dal pareggio ancora con Ranieri che defilato scarica una conclusione potente bravissimo Palermo a dire di no ma nel miglior momento lo spoltore viene colpito all'82esimo errore della difesa che spalanca la strada a Bana l'ex Giulianova supera con un tocco morbido Peluso in uscita e scrive 3 a 1 vastese chiudendo di fatti il match vittoria preziosa per gli aragonesi che scavalcano lo spoltore in classifica e si portano a più 5 dalla zona play out mentre per lo spoltore è tempo di rimettersi al lavoro per preparare i prossimi difficili impegni dopo questa lunga sosta pasquale mister Ronci una sconfitta che fa un po' male questa oggi con la vastese però c'è stata anche una bella reazione dello spoltore nel secondo tempo dopo il 2 a 1 avete creato tanto poi il gol del 3 a 1 vi ha tagliato le gambe al 37esimo sì purtroppo abbiamo fatto un errore a inizio partita e siamo andati sotto con una squadra che era venuta con una linea 5 e non a 3 con tre centrocampisti una mezza punta e un attaccante davanti e ho detto a loro stiamo attenti nelle situazioni così così perché i cerchi erano sempre i calci piazzati ci siamo fatti sorprendere su una palla lunga su un lato non siamo riusciti ad uscire hanno battuto se non sbaglio 3-4 falli atrale sulla stessa azione e poi è arrivato questo cross dove era veramente innocuo abbiamo fatto un errore grandissimo e siamo andati sotto è normale che quando vai sotto con una squadra così fisica strutturata così diventa una montagna da scalare primo tempo abbiamo cercato di fare qualcosina non ci siamo riusciti secondo tempo abbiamo cambiato abbiamo spinto tanto abbiamo fatto un altro regalo perché il secondo gol è un tentico regalo che abbiamo fatto noi siamo andati sotto di 2-0 c'era un rigore prima clamoroso di Cauterucci fallo di mano in aria non è stato dato subito dopo è stato dato il rigore abbiamo fatto il 2-1 è fatto un miracolo il portiere della Vastese su una gran botta di Ranieri è fatto un miracolo incredibile e lì probabilmente in quel momento forse il pareggio l'avremmo anche meritato e poi c'era un'altra situazione che voglio rivedere un rinvio di un difensore loro becca il braccio aperto di un compagno secondo me era rigore anche quello non ci viene dato e poi in controllo abbiamo perso il 3-1 abbiamo preso il 3-1 e quello ha chiuso la partita mi dispiace perché era una partita per noi fondamentale importante dobbiamo fare di più secondo me soprattutto il primo tempo dobbiamo fare molto di più adesso dobbiamo essere bravi a stare sereni tranquilli perché ci sono due settimane di lavoro è chiaro che questa sconfitta complica tantissimo il discorso salvezza anche per questo regolamento che sinceramente non lo comprendo però è così e quindi è così per tutti e allora queste due settimane dovremo lavorare molto perché poi quando si riprenderà abbiamo delle partite durissime ma dobbiamo far punti contro chiunque passiamo adesso ad un altro pareggio si è giocato a Pontevomano un altro scontro diretto quello tra Pontevomano e Sant'Egidiese termina a reti inviolate 0 a 0 ci racconta tutto nel servizio Matteo Falzon con le immagini Giancarlo Rapagnà vediamo per la zona calda della classifica il Renato Ruggeri di Villavomano va in scena un match delicato in paglio punti pesanti tra Pontevomano e Sant'Egidiese con i gialloneri reduci dal pari di Celano e di Vibratiani dalla sconfitta interna nel derby contro il Castelnuovo Cifaldi ripropone Antichi davanti dal primo minuto il tecnico della Sante recupera Stefano Cichella ma perde per squalifica Bascialiu e Petronio dopo l'iniziale fase di studio della Sante la prima chance al tredicesimo colpo di testa fuori stessa sorte al sedicesimo per il tentativo di Marini con il passare dei minuti prova a diventare più intraprendente il Pontevomano diciannovesimo sinistro fuori di Antichi grande occasione al ventiduesimo sugli sviluppi di angolo l'incornata di Mattielli si stampa sulla traversa mentre Gragnoli con le punta delle dita si oppone un minuto dopo alla stoccata di Riccardo Di Stefano esce fuori la Sante la mezz'ora respinto il tentativo di Mucci prima di due chance firmate Manari la punizione del trentasettesimo termina alta il tracciante del quarantacinquesimo dalla distanza si perde sul fondo di pochissimo subito nel vivo anche la ripresa dopo appena quindici secondi e Gragnoli ed evitare la capitolazione sul colpo di testa ravvicinato di Antichi al terzo proteste dei gialloneri per una caduta in area di Marini mentre la Sante torna a farsi vedere al quinto con Natale che alza in angolo un tiro cross di Regnicoli e con il colpo di testa di Mechetti sugli sviluppi del successivo corner va vicinissimo la marcatura il Ponte Vomano al dodicesimo il colpo di testa di Sorrini sfiora il bersaglio grosso mentre al diciassettesimo serve un'uscita tempestiva di Gragnoli sulla combinazione Marini Antichi episodio da Moviola anche al ventiduesimo quando a terra va il neoentrato Guido Galli Spadaccini di Chieti lascia proseguire anche in questo caso passano i minuti sale la tensione ma le due squadre con coraggio ci provano ventinoesimo da Mattielli a Dorazio diagonale che lambisce il palo alla destra di Gragnoli al trentottesimo punizione dello specialista Cichella Natale ci mette i pugni attimi conclusivi del match si dispera il Ponte Vomano al quarantaduesimo sulla punizione di Dorazio il pallone con un rimpallo arriva ad Antichi che ad un passo dalla porta calcia alto una ghiottissima chance un attimo prima della conclusione per sbloccare il confronto che si chiude sullo zero a zero anche dopo il tentativo in pieno recupero di Dercole secondo pari Casalingo per il Ponte Vomano dopo quello del 27 settembre contro il Castelnuovo il quinto esterno della stagione invece per la Sant'Egidiese la fine è uscito uno zero a zero secondo punto consecutivo tante occasioni soprattutto ti dico cosa hai pensato al quarantaduesimo della ripresa quando la pallone di Antichi è andata alta ho pensato che non ci voleva fare che bastava spingerla anche con la pancia in porta però abbiamo fatto una partita quella che dovevamo fare abbiamo rischiato pochissimo abbiamo creato penso tra primo e secondo tempo almeno cinque palle ai gol importanti chiaramente la palla devi mettere dentro non siamo riusciti a metterla dentro anzi certe volte penso a queste partite rischi di perderle quando è così perché basta una palla sporca e rischi di prendere gol considerando pure la traversa il primo tempo a colpo sicuro insomma abbiamo fatto di nuovo una buona prestazione chiaramente i risultati non ci dicono bene in questo momento però la squadra è stata in campo ha dato tutto questa è la cosa più importante è stata una partita con diverse occasioni nonostante l'alta posta in paglio in cui la Santa ha fatto anche grande pressione nella parte finale del match avete rischiato al 42esimo sull'occasione di Antichi però soprattutto al di là del punto in classifica che portate a casa la squadra che ha dimostrato di essere viva oggi secondo me abbiamo fatto una buona prestazione una prestazione di sostanza e di sacrificio anche tecnicamente abbiamo giocato bene rispetto alle altre volte non rispetto alle altre volte c'è stata una settimana particolare questi alti e bassi magari dovuti a delle situazioni particolari che nel calcio purtroppo possono accadere noi ci troviamo in un momento tra virgolette difficile però sono convinto che da qui alla fine potremmo giocarcela in maniera adeguata oggi la squadra ti ripeto mi ha dimostrato di voler ottenere risultati su un campo non facilissimo sai benissimo anche loro dovevano assolutamente fare punti posso dire che la prestazione di oggi tutto sommato sono abbastanza soddisfatto ma per noi forse il punto è un piccolo un piccolo diciamo un brodino diciamo però eravamo venuti per fare il punteggio pieno speriamo adesso c'è la sosta e poi le ultime quattro partite cercheremo di fare il massimo altro scontro diretto in chiave salvezza che è terminato con il segno X quello tra San Buceto e Celano è finita 1-1 e ce lo racconta Luca Zarroli con le immagini di Gianluca Iezoni Buon poveriggio la giornata numero 30 nel campionato d'eccellezza buon poveriggio dalla cittadella dello sport punti e salvezza o meglio punti per la tranquillità in classifica il programma è in palio oggi tra San Buceto e Celano il movimento di Gomara a saltare netto ma strippolito c'è possibilità di distendersi per la formazione di Delzotti ancora Gomara ancora prova a caricare il destro la conclusione e poi riesce in due tempi D'Amico pallone per Piscopiello che può avanzare tracciante Sanchez Rodriguez si gira la conclusione è un gran gol quello firmato da Sanchez Rodriguez in minuto 17 da grande attaccante si è girato battuta potente nulla da fare per D'Amico anche Kelly Ortellado va a prendere posizione nell'area di rigore il fischio di Amatangelo la battuta in area prova a staccare Sanchez Rodriguez pallone buono intervento di Damore miracolo sul tentativo dalla distanza Piscopiello chiede di poter rientrare post coperta su quella corsia Michele D'Amore per il Celano Michele D'Amore traversone Dedeo ancora il pallone vagante in area ancora Dedeo doppio intervento pallone ancora buono Lombardo con il destro prova la conclusione alta sulla traversa con il Celano vicinissimo gol del pareggio al 37esimo Mastrone va via Mastrone ancora un paio di finte Mastrone lo scarico a beneficio di Bruni che carica il destro Bruni cerca lo spirale la conclusione pallone di un nulla sul fondo alza il braccio per chiamare lo schema in movimento da parte di Gomara pallone per Solano prova la conclusione Mancina vola D'Amico sulla sua sinistra a dire di no la bella conclusione da parte di Solano con l'esterno destro catturato da Kelly Ortellato Bruni prova a dargli fastidio poi Mastrone a rendere complicato il retropassaggio Dedeo mezzo a due sbaglia Dedeo e il gol del pareggio da parte di Mastrone l'errore di Dedeo quinto della ripresa ha tirato due giocatori attorno a sé Dedeo poi l'esperto portiere ha sbagliato l'appoggio Mastrone che era andato in pressione con Bruni gli ha soffiato il pallone ha messo dentro quindi situazione che torna in parità Solano rientra sul destro ancora Solano prova a liberarsi lo scarico a beneficio di Marcelli che prova a caricare il destro la conclusione alta sulla traversa paglia l'intervento Bratelli c'è possibilità del contropiede Bruni per Damore Damore l'ingresso in area da destra c'è una conclusione da parte di Damore che devono un tocco con le mani di Meo non è l'imbucata per De Almeida prova a andar via avversario Dedeo è il gol no pallone che era uscito insomma si erano un po' fermati anche Dedeo su questa situazione l'arbitro ha avuto un attimo di esitazione Solano tra le linee Lazzari ancora Lazzari prova a caricare il destro Damico dire di no sulla conclusione dalla distanza ancora Bruni lo scarico a beneficio di De Almeida pallone in mezzo Solano ad allontanare poi Puglielli prima di Sanchez Rodriguez lo fa in maniera fallosa ma non c'è più tempo è 1-1 è la finale qui la cittadella dello sport tra San Buceto e Celano si dividono la posta le due formazioni Mister un buon punto quello che la sua squadra ottiene qui a San Buceto insomma dopo una prima mezz'ora un po' di sofferenza la sua squadra è venuta fuori sì abbiamo sofferto i primi 20 minuti abbiamo sofferto secondo me non lo so non riusciamo a a prenderli a prenderli alti loro uscivano bene poi abbiamo cambiato abbiamo cambiato siamo messi in bo diversamente secondo me poi alla fine la squadra è uscita nel primo tempo abbiamo creato qualche azione per fare i collo pure noi però è un punto d'oro perché l'abbiamo fatto contro secondo me contro una squadra organizzata che gioca bene a calcio possa palleggiare quindi vincere qua a San Buceto fare i punti non è facile per nessuno però faccio un applauso ai miei ragazzi perché dopo i primi 20 minuti mezz'ora che stavamo soffrendo siamo andati sotto non era facile poi ribaltare la partita però ci siamo riusciti secondo me con merito e alla fine credo che il risultato sia pure giusto non lo so poi sì qualche occasione forse in più l'abbiamo avuta però ripeto contro una squadra secondo me organizzata 438 in classifica c'è un gruppone piuttosto sostanzioso sotto insomma c'è ancora da irrobustirla questa classifica secondo me ancora manca qualche punto sì è vero che siamo tre punti fuori dai play out però e 12 dalla terza ultima però manca secondo me mancano ancora due punti per essere tranquilli adesso ci riposiamo abbiamo quattro finali credo che un'altra partita dobbiamo vincere se vinciamo un'altra partita secondo me siamo salvi però adesso ci riposiamo ci riposiamo queste due settimane e pensiamo alla prossima che sarà molto difficile contro la Delfino visto arriva un 1-1 con il Celano una prima mezz'ora decisamente di qualità poi insomma gli episodi fanno sempre la differenza nel calcio nel calcio moderno ancora di più sì sì io credo che abbiamo fatto ancora una volta una grande prestazione purtroppo non ci gira bene e ci sono certi episodi che ci girano male purtroppo ci ritroviamo a commentare un pareggio i ragazzi però secondo me in campo meritavano di più però quello che gli dico sempre che non basta non basta fare la prestazione non basta essere perfetti per 89 minuti poi sappiamo che in questo campione ci sono squadre forti in quel minuto ti possono fare due gol detto questo sappiamo che c'è da soffrire sappiamo anzi i risultati sono andati anche discretamente peccato aumenta ancora di più il rammarico perché una vittoria poteva significare tanto per noi adesso una pausa di 20 giorni che ci permette di recuperare i 4 over che abbiamo fuori per noi sono troppo importanti diciamo che in queste ultime partite la rosa è stata veramente veramente corta i ragazzi chi c'è stato ha spinto al massimo però è giusto che poi bisogna far rientrare gli altri bisogna condurre la barca al porto tutti insieme saliamo adesso la classifica perché c'era un altro scontro diretto ed è soprattutto un derby quello tra Castelnuovo e Torrese che è finito 0 a 0 ci racconta tutto nel servizio Fabrizia Cardinale con le immagini di Gilberto Marinozzi delle 18 squadre in campo in questa trentesima giornata Castelnuovo e Torrese sono le due compagini che hanno meno da chiedere ma la sfida tra i neroverdi di Nocera e giallorossi di Cristofale rimane pur sempre un derby Valiente e D'Antonio guidano l'attacco del Castelnuovo Colucci si accomoda in panchina per lasciare spazio a classe 2004 Chialastri Sponda Torrese Ruggeri e Dal Cason nel reparto offensivo sono cogliuvati da Tamboriello Rossi e Mosca assente Angelini causa squalifica un primo tempo avaro di emozioni eppure la prima azione pericolosa si sviluppa dopo appena 50 secondi con D'Antonio che cerca la porta e la sfera che termina sopra la traversa al decimo la Torrese ci prova con Tamboriello ma la conclusione del numero 10 si spegne sul fondo minuto 38 Ludovici recupera un buon pallone e lancia D'Antonio il tentativo dell'attaccante viene però deviato in corner al quarantunesimo staffetta tra under fuori Ludovici dentro Sedai per scelta tecnica con le immagini di Gilberto Marinozzi ci trasferiamo nella ripresa al quinto anche Cristofa rieffettua il suo primo cambio a causa di un problema alla spalla destra per Di Federico al suo posto subentra Romanucci al settimo minuto Ruggeri trova la porta inrovesciata ma Caputo blocca mentre al dodicesimo altra sostituzione forzata per l'allenatore dei giallorossi con Di Francesco costretto a lasciare il terreno di gioco al suo posto entra Scimia al ventiquattresimo Tamboriello calcia molto bene la sfera dalla bandierina con il legno della porta difesa da Caputo che salva il Castelnuovo che prova a farsi vedere in avanti al ventottesimo al ventinovesimo prima con il potente tiro di Giordano respinto da Montese poi con il colpo di testa di Valdes che non trova lo specchio della porta Nero Verdi che spingono il piede sull'acceleratore al trentasettesimo Lugo Martinez tenta la conclusione di precisione sul calcio di punizione ma Montese può controllare senza troppi problemi mentre al quarantesimo Tamboriello prova ad emulare il suo avversario con più fortuna ma la sfera sorvola la traversa del Castelnuovo nei minuti di recupero un'azione elaborata permette a quarta di concludere ma il raso terra del classe 2001 termina tra i guantoni dell'estremo difensore della Torrese il derby finisce a reti inviorate si accontentano di un punto a testa le due compagini che proseguono la striscia positiva di risultati mister un buon pari comunque terzo risultato utile consecutivo per il Castelnuovo dopo le due vittorie con Celano e Sant'Egidiese oggi abbiamo visto una squadra forse che insieme alla Torrese si sono accontentate di questo punto ma è un derby molto sentito quindi tutte e due squadre ci tenevano a fare risultato forse nel primo tempo abbiamo fatto qualcosina in più noi è lì che dovevamo sbloccare la partita secondo me poi nella ripresa non abbiamo più giocato nessuno delle due squadre abbiamo pensato più al risultato che a giocare la palla era troppo importante il risultato nel finale loro hanno avuto questa traversa sul calcio d'angolo dove potevano far gol e noi abbiamo avuto l'occasione con Quarta a fine proprio partita che poteva portare la partita a nostro vantaggio però ti ripeto il primo tempo noi meritavamo qualcosina in più nella ripresa non si è più giocato Castelnuovo che sale a 51 punti adesso mancano ancora quattro gare come si motivano i ragazzi considerando che il Giulianova ormai ha quasi ipotecato il discorso playoff questo sarà il lavoro da svolgere perché a livello fisico ormai mancano quattro partite si può fare poco e niente ma a livello mentale c'è da lavorare perché come dici tu gli obiettivi non ce ne sono tanti però noi ce l'abbiamo perché vogliamo arrivare più in alto possibile per coronare questo bel campionato che stiamo facendo mister innanzitutto come stanno di Francesco e di Federico sono andati entrambi all'ospedale hanno problemi alla spalla si presume per di Francesco un problema alla clavicola mentre per di Federico dovrebbe essere solo una lussazione una prima diagnosi usciamo anche oggi malconci con due infortuni abbiamo già perso Manzur due settimane fa sempre per discorso della spalla questo rende l'idea della partita che è stata è stata una vera e propria battaglia una partita bella vincente tra due squadre che si insomma si temevano hanno fatto una partita gagliarda il pareggio sostanzialmente è un punto giusto però voglio fare i complimenti ai ragazzi perché oggi l'hanno interpretato veramente bene abbiamo fatto una partita di grande sacrificio nonostante le assenze ci siamo adattati al tipo di partita abbiamo fatto anche secondo me un buon gioco il primo tempo secondo me abbiamo fatto veramente una buona partita anche da un punto di vista tecnico poi i due cambi forzati non avevamo difensori di ruolo ci siamo dovuti adattare e credo che alla fine il punto sia meritato anzi forse meritavamo anche qualcosa in più quindi faccio i complimenti ai ragazzi non ero contento nelle partite precedenti oggi invece hanno reagito alla grande e quindi sono contento Torniamo sui campi ma prima apriamo la parentesi dedicata all'eccellenza femminile e vedremo anche delle grafiche perché oggi si è disputata la quindicesima giornata di campionato tre segni X una vittoria in trasferta e una gara che è ancora in corso quindi andiamo a vedere innanzitutto la classifica eccola qui il Pescara che comanda questa graduatoria con 30 punti 23 punti per il Maiella 21 per il Bagicalupo Teramo anche a quota 21 l'unica vittoria in trasferta è stata proprio quella delle Teramane 19 punti per il Campobasso 17 per Cantera Adriatica e Bellante 10 per Virtus Anxanum Giffi Avezzano 8 e poi calcio femminile Chieti 0 ma sappiamo che è fuori classifica noi abbiamo seguito Maiella Pescara che è terminata 2 a 2 grazie al prezioso contributo di Fabio Fedeli andiamo a vedere il servizio che è stato invece realizzato dall'inno nazionale è terminato 2 a 2 il big match della sesta giornata di ritorno del campionato di eccellenza femminile tra il Maiella seconda forza del torneo e il Pescara che comanda la classifica e mantiene invariato il distacco di 7 punti ma con una partita in più occasione persa dunque per le padrone di casa di rosicchiare punti preziosi e sperare in un possibile aggancio alla vetta quando mancano ancora 3 partite da giocare primo tempo indubbiamente molto più equilibrato con le gialloblu che però hanno subito al quarto d'ora la rete del vantaggio ospite firmato da Sara Polidoro le biancazzurre brave a costruire la manovra e ad approfittare di una mancata chiusura delle locali che nel corso della prima frazione hanno anche costruito un'occasione per riacciuffare il pari primo tempo che passa agli archivi con la formazione di Pierpaolo Grosso in vantaggio ripresa sicuramente più scoppiettante l'undici gialloblu di Manuel Stella in palla e al quattordicesimo arriva il pari la firma è quella del vice capitano Valentina Porcu che alla fine metterà a segno anche la sua doppietta personale per il definitivo 2 a 2 le biancazzurre sbagliano la chiusura il tiro della Porcu finisce prima sul palo ed è nuovamente giocabile per la numero 10 che ribatte in fondo al sacco al minuto 22 arriva il nuovo vantaggio delle ospiti con Esmeralda Falcone bello il suo sinistro nulla da fare per Francesca D'Amico un gol che avrebbe potuto stendere anche un toro che avrebbe potuto creare anche un contraccolpo per le gialloblu che invece un minuto dopo hanno riacciuffato il Pescara con la Porcu una delle migliori in campo e sicuramente tra le più positive di questa stagione anche in questo caso nuovamente è colpito il palo ma la sfera questa volta si spegne in fondo alla rete entrambe le formazioni proveranno poi a portare a casa il risultato pieno soprattutto il Maiella che puntava molto su questo scontro diretto per accorciare il gap alla fine il pari accontenta soprattutto il Pescara che vede ormai il traguardo a portata di mano e che all'andata si era imposto per 2 a 1 Riprendiamo adesso il campionato di eccellenza maschile la Virtus Cupello che ottiene una vittoria importante per quanto riguarda la salvezza ottenendo anche uno scalpo prestigioso ovvero quello della Renato Curi Angolana finisce 2 a 1 per i ragazzi di Zetulaiev ci racconta tutto nel servizio Antonio del Borrello con le immagini di Eduardo D'Addario Dalle rimonte a mare subite nei due precedenti turni a quella dolcissima centrata oggi pomeriggio per blindare definitivamente il discorso salvezza diretta nel trentesimo turno d'eccellenza con 4 giornate d'anticipo la Virtus Cupello ha tagliato il traguardo rimontando tra le mura amiche la Renato Curi Angolana ormai lontana dai playoff al vantaggio di Cercelluti ha risposto Tafili per il pari e pedalino a blindare il definitivo 2 a 1 con le immagini curate da Eduardo D'Addario passiamo alla cronaca del match il primo squillo è ospite dopo un minuto botta violenta di Capitano Farias a sfiorare l'incrocio al decimo il tiro cross di Ucci è pericoloso di Giacomo si salva come può l'angolana preme forte e due minuti più tardi sfiora il vantaggio con il colpo di testa di Cercelluti debole e di millimetri al lato minuto 17 azioni orchestrata dalla sinistra assisti Miciche raccolto sul secondo palo da Patanè a centro area di Giacomo e providenziale su Farias rosso e blu sorpresi dalla partenza ospite ma al ventunesimo ci prova squadrone sberla di destro a solvolare la traversa allo scoccare del venticinquesimo la Renato Curri sblocca il match ceccani dalla sinistra serve un cioccolatino per Cercelluti che lasciato solo in area ringrazia e firma il vantaggio sotto di un gol i padroni di casa si svegliano e iniziano a carburare al ventisettesimo giocata sulla sinistra di Troiano da due passi Stivaletta impatta ma non trova lo specchio vanificando una ghiotta occasione scollinata di un minuto alla mezz'ora passaggio di Stivaletta per Irace che conclude di destro ma il pari non arriva i cupellesi trasformati dopo l'inizio timido dei primi 25 minuti premono forte e al quarantesimo trovano il meritato pari angolo battuto da Irace di testa Tafili anticipa tutti e sul secondo palo batte Cucerenco firmando da centrocampista il secondo gol consecutivo il terzo negli ultimi quattro turni sulle ali dell'entusiasmo i cupellesi cercano la via del pari per completare la rimonta già nel primo tempo al quarantatresimo splendida percussione solitaria di Stivaletta che penetra in area e va a terra il dieci vastese reclama il penalty ma il fischietto marsicano da buona posizione lascia correre al rientro degli spogliatoi dopo due minuti pedalino si mette in proprio slalom gigante d'applausi ne salta un paio elude anche Cucerenco ma calcia a lato da posizione complicata è il prodromo del gol che arriva cinque minuti più tardi dalla sinistra palla lavorata da Stivaletta assista al centro per pedalino che questa volta fa centro completando la rimonta sesto gol in campionato per il 37enne bomber campano gli ospiti ora chiamati a rincorrere ci provano con due diagonali da fuori al tredicesimo tocca a Cecani più pericoloso Ucci che tre minuti più tardi però non trova la porta nella mezz'ora finale ben poco da raccontare al triplice fischio la festa è tutta della Virtus Cupello che con il 2-1 finale abbraccia la salvezza diretta toccando quota 41 punti mister Pierantoni arriva la sconfitta a Cupello una bella bellissima prima mezz'ora poi che cosa è successo? abbiamo fatto un buon primo tempo un ottimo primo tempo dove abbiamo sbagliato solamente in occasione del gol loro sul calcio d'angolo che non aveva marcatura secondo tempo anche per merito del Cupello non abbiamo fatto un secondo tempo all'altezza avevamo giocatori che purtroppo si sono filtrati non avevamo cambi dietro perché numericamente lì dietro siamo contati proprio nella rosa a parte Ucci che è squalificato e può giocare come terzino destro non abbiamo altri però non sono scusanti è stata una partita non all'altezza secondo tempo e abbiamo pagato caro questo e la sconfitta è giusta mister Zeytulaev dalle due rimonte amare subite contro Sant'Egidiese e Torrese a quella dolcissima di oggi contro una quotata Renato Curiangolana che vi porta a quota 41 punti e numeri alla mano fa rima con salvezza diretta quanto pesa questa vittoria? Buonasera a tutti sì Antonio è vero che sono state delle rimonte però è anche vero che comunque erano dei punti guadagnati perché erano squadre attrezzate e forti quindi non diamo per scontato il lavoro che hanno fatto i ragazzi perché sono punti importanti oggi la vittoria è pesantissima perché contro una squadra così forte vincere in casa con autorità è importante abbiamo fatto una grossa prestazione contro una squadra a mio avviso fortissima è scontato adesso elogiare i ragazzi perché loro lo sanno che hanno fatto una prestazione importante però vorrei anche ringraziare il nostro magasiniere Tuttofare che è anche un nostro match analysis che ha creato la possibilità che possiamo vedere le partite studiarli quindi questo Angelo Senesi che lo vogliamo proprio dedicare questa vittoria a lui perché è un uomo veramente in gamba e adesso saliamo nelle parti più nobili della classifica al terzo forzo c'è la Folgore del Fino Curi Pescara che oggi è riuscita ad agganciare e soprattutto a trovare il pareggio e poi la vittoria nel finale vediamo anche la classifica quota 58 punti record non solo di punti ma potrebbe arrivare anche un record di posizione in classifica per la Folgore del Fino Curi Pescara visto che ha battuto proprio l'Ovidiana Sulmona ed è un piazzamento che al San Marco appunto potrebbero festeggiare a fine stagione ma noi andiamo a vedere cosa è successo perché è terminata 2-1 la partita in favore della formazione di Bonati e ce la racconta Cristian Carchesio con le immagini di Massimo Lupacchini Al San Marco succede di tutto in una partita bellissima e ricca di occasioni il Sulmona chiude in vantaggio un primo tempo equilibrato ma la Folgore riesce a ribaltare la gara nei minuti finali e a tenere ancora accesa qualche piccola speranza di disputare i playoff parte bene l'Ovidiana che mette in difficoltà i padroni di casa nei primi minuti e crea la prima occasione al settimo con Braghini che non pesca l'angolino per questione di centimetri con il passare dei minuti la Folgore prende campo e comincia ad avvicinarsi in maniera pericolosa dalle parti di Cristiano Puglielli al quattordicesimo scambio tra Gobbo e Napoletano poi il pallone arriva a Rossi che calcia a botta sicura ma viene murato dall'altra parte al sedicesimo Romano Puglielli chiama Giannini ad una gran parata con una bella conclusione dal limite ma sul seguente calcio d'angolo lo stesso numero 7 porta il Sulmona in vantaggio e il Delfino non ci sta e subito dopo spaventa gli ospiti con un bel tiro al volo di Panzera non trattenuto da Cristiano Puglielli Napoletano prova ad avventarsi sulla respinta ma partendo da posizione irregolare le squadre si affrontano a viso aperto creando diverse palle goal anche dopo aver trovato il vantaggio Lovidiana non rinuncia ad attaccare e Braghini sfiora il raddoppio dopo una bella combinazione con Pelino negli ultimi minuti della prima frazione la Folgore spinge tanto e al 41esimo ha la migliore opportunità Napoletano si gira bene ma sbatte su Cristiano Puglielli Martella tiene viva l'azione rimettendo il palone al centro la difesa bianco-rossa allontana male ma Ferrante apre troppo il piattone l'inerzia della gara resta dalla parte del Delfino anche nella ripresa in cui la squadra di Bonati si stabilisce nella metà campo avversaria le migliori occasioni arrivano su calcio da fermo prima Rossi colpisce male di testa poi Scotti non trova lo specchio da pochi passi il tecnico bianco-azzurro tenta il tutto per tutto nell'ultima mezz'ora inserendo due attaccanti al posto dei due difensori e facendo retrocedere Gobbo nella tipica posizione di tersino sinistro il rischio ovviamente è quello di esporsi alle ripartenze dell'Ovidiana il tiro di Braghini deviato in calcio d'angolo da Scotti al trentesimo è Bocchio a non sfruttare una buona opportunità colpendo male di testa il meritato pareggio però arriva al trentacinquesimo con il tiro dal limite di Ferrante che sorprende Cristiano Puglielli e si infila all'angolino la Folgore non vuole accontentarsi del pareggio ma dopo appena un minuto è il Sulmona a sfiorare il vantaggio sull'inserimento perfetto di Palestini e bravissimo Giannini a chiudere lo specchio dall'altra parte con un difensore bianco-rosso a terra Rossi offre l'assist a Gobbo che incrocia troppo con il sinistro al novantunesimo però il gol vittorio arriva su calcio d'angolo di Gobbo Scotti viene dimenticato sul secondo palo dalla retroguardia dell'Ovidiana e il difensore bianco-azzurro completa la rimonta in un finale tesissimo si scatena una rissa innescata da un fallo di reazione di Facundo Blanco che dopo pochi secondi dal suo ingresso in campo viene espulso il direttore di gara fatica a riportare la calma e quando si riprende a giocare il Sulmona riesce anche a costruire l'occasione del 2-2 con Presutti al novantottesimo si interrompe a 5 dunque la striscia di vittorie consecutive del Sulmona che resta comunque al sesto posto la Folgore invece mantiene il distacco di 12 punti dal Giulianova e può ancora sperare nei play-off cosa devo dire abbiamo fatto una buonissima partita contro una squadra forte che ha dimostrato attraverso i punti che ha fatto sul campo di meritare la classifica che ha e poi per il resto è meglio che non parlo di nulla perché per me il rispetto il rispetto è la prima cosa a me qui mi hanno mancato di rispetto e basta e di tutto questo insomma se ne parlerà domani nella trasmissione lunedì d'eccellenza diretta ore 21 Fabrizia Cardinale Lino Nazionale Luca Zarroli tanti ospiti per fare un focus sulla trentesima giornata ma noi continuiamo con i servizi scaliamo ulteriormente le posizioni perché Giulianova consolida il suo secondo posto in classifica vincendo su un campo difficile come quello del Casalbordino con il risultato di 3 a 2 ci racconta tutto nel servizio Luca Di Credico con le immagini di Claudio Senerchia vediamo un gentile saluto da Luca Di Credico siamo giunti alla trentesima giornata del campionato di eccellenza la tredicesima del girone di ritorno il Giulianova di mister Pagliaccetti dopo la vittoria contro la Folgore del Fino Curi Pescara cerca oggi il sesto successo consecutivo e scende in campo di un Casalbordino che tra le mura amiche non trova i tre punti dalla gara del 4 febbraio contro il Capistrello e che oggi vorrà regalare gioie davanti ai propri tifosi la prima occasione della partita è proprio per i padroni di casa undicesimo minuto del primo tempo gran contropiede di prima orchestrato dal Casalbordino la palla va a Finizio che arriva al tiro blocca a bocca nera 4 minuti più tardi è pericoloso il Giulianova la squadra ospite trova l'ingresso in area di Luca Conini il numero 9 duella con il portiere va al tiro Ciccarelli in qualche modo se la ritrova lì e va in presa bassa al ventunesimo minuto ancora Giulianova Donatangelo irrompe nell'azione del Casalbordino conduce palla al piede continua l'azione 1-2 e poi calce a giro la spera non si abbassa sufficienza e termina fuori al trentunesimo minuto torna ad accendersi il Casalbordino da calcio di punizione palla destinata a Finizio che incorna conclusione centrale rispetto alla posizione di Bocca Nera però che blocca sul finire di partita al quarantaduesimo minuto grande azione dalla sinistra del Giulianova Piccioni in buca per Cognini il numero 9 sterza e calcia Ciccarelli riesce a respingere malapalla carambola sui piedi di Giglio che mette dentro un tapin da due passi porta in vantaggio il Giulianova finisce così un primo tempo frizzante tra Casalbordino e Giulianova ospiti bravi a resistere a un Casalbordino gagliardo pericoloso e a punire con la rete di Giglio andiamo adesso a vedere cosa succede nella seconda frazione subito il rientro in campo sono 45 i secondi sul cronometro di gara Massetti crossa in mezzo palla respinta poi arpionata la grande da Cognini che conclude con una rasoiata e piazza il pallone all'angolino 2 a 0 e sedicesimo gol per il miglior marcatore del Giulianova Luca Cognini al decimo minuto la fiammata del Casalbordino bravo a sfruttare la profondità sgroppa Finizio entra in area se la mette sul destro e calcia sul primo palo battendo bocca nera 1-2 partita riaperta da Finizio al ventisettesimo ancora Giulianova entra in area Donatangelo qui subisce una spinta l'arbitro non ci pensa due volte assegna il calcio di rigore per gli ospiti sul dischetto si presenta il neo entrato Francesco Di Paolo che trasforma il rigore portando il Giulianova di nuovo sul doppio vantaggio 1-3 due minuti più tardi il Casalbordino lamenta al ventinovesimo minuto del secondo tempo un'entrata irregolare su Murga in area di rigore per l'arbitro non c'è nulla sul finire di partita continua a insistere il Casalbordino altra occasione al quarantaduesimo minuto Finizio si presenta da punizione batte rasoterra un po' sorpreso bocca nera riesce comunque a respingere trascinato dal tifo di casa ancora il Casalbordino al quarantasesimo minuto del secondo tempo calcio d'angolo su cui arriva Idarevic che schiaccia trovando il 2-3 riaprendo la partita pochi minuti dalla fine finisce così il Giulianova porta a casa i tre punti grazie alle reti di Francesco Di Paolo con Nini e Giglio contro un gran Casalbordino trascinato da Finizio e Aidarevic che oggi ha disputato veramente una gran partita finisce però 2-3 per il Giulianova Presidente oggi una partita fantastica un gran Casalbordino che esce però sconfitto come valuta la prestazione dei suoi ragazzi? La prestazione è stata una prestazione positiva contro una signora squadra e dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno perché sicuramente non era una partita nella quale potevamo ambire a fare risultato pieno anche se ci abbiamo provato fino alla fine però questa partita ci ha dato delle indicazioni specifiche molto importanti ed è stata quella che anche le nostre seconde linee anche i ragazzi che sono stati chiamati meno in causa dal mister oggi una volta chiamati a darci una mano hanno risposto presente e quindi i vari ciccarelli scubinbonacci hanno veramente Rozzank hanno veramente fatto tremare il Giulianova e forse se la partita fosse durata qualche secondo di più o con qualche attenzione di più da parte nostra staremmo qui a parlare di un altro risultato però va bene così ci mancano quattro partite alla fine saranno quattro spariggi perché noi in queste quattro partite dobbiamo assolutamente ottenere quattro punti una squadra che gioca così bene non può retrocedere mister oggi sapete sarebbe stata una partita difficile il Casalbordino non vinceva qui da febbraio tra il Muramiche quindi sarebbe stata una partita in cui loro vi avrebbero attaccato molto comunque il Giulianova ha tenuto bene ha trovato una vittoria importante sofferta in molti minuti ma è una prova importante e convincente ma poteva essere ancora più convincente perché quando crei tanto e poi devi stare fino al 96esimo col fiato sospeso perché hai l'ultimo calcio d'angolo che puoi pareggiare la partita non è gestita bene mi dispiace io l'ho detto a fine gara non parlo mai perché magari possono stare dei nervosismi però l'ho detto alla squadra una partita così che devi stare col fiato sospeso fino all'ultima azione bisogna gestirla meglio bisogna evitare gli errori e cercare di fare magari essere più efficaci in attacco e ora saliamo in vetta perché il Teramo fa manita vince 5 a 1 contro il Fossacesi e condanna gli avversari alla retrocessione da oggi in matematica per i bianco-rossi del patron Ursini allora andiamo a vedere cosa è successo al Pigliacelli di Montorio non si giocava al Bonolis per la concomitanza del match del Monterosi e andiamo a vedere cosa è successo con le immagini Maurizio Valeriani e il racconto di Lorenzo Mazzaufo Il Teramo batte il fanalino di coda Fossacesi a 5 a 1 sul neutro di Montorio Alvomano al termine di una partita che di fatto è stata quasi sempre a senso unico con la differenza tra le due squadre che merse in maniera nitida nel corso dei 90 minuti come da copione è il Teramo a prendere in mano il pallino del gioco facendo possesso palla e cercando così di schiacciare il Fossacesia al settimo azione di De Giglio sulla sinistra cross al centro Cutilli colpisce di testa ma il pallone termina alto sopra la traversa tre minuti più tardi è sempre De Giglio protagonista sull'auto di sinistra la sua conclusione però viene deviata in angolo da Antonelli il Teramo va a marce basse ma è comunque padrone del campo e al quarto d'ora esatto trova il gol che sblocca il risultato calcio d'angolo perfetto battuto da De Giglio Dos Santos svetta con i tempi giusti e trafigge l'estremo difensore ospite il Fossacesia prova una timida reazione al ventitresimo bella progressione solitaria di Arboleda il tiro però viene parato in due tempi da Didonato un minuto più tardi il Teramo si divora letteralmente la rete del 2 a 0 pasticcio della difesa del Fossacesia nel tentativo di disimpegno il pallone va sui piedi di De Giglio che però a porta sguarnita spedisce fuori le immagini girate da Maurizio Valeriani ci portano nel secondo tempo con il Teramo che subito riprende l'iniziativa al terzo azione di Touret che prova a deludere la difesa tiro che finisce di poco fuori alla destra di Antonelli il Diavolo al sesto trova però il raddoppio con la conclusione bella e potente di De Giglio che si insacca in rete facendo esplodere i tifosi biancorossi sugli spalti decimo minuto punizione battuta da De Giglio traiettoria velenosa con il pallone che finisce di poco alto sopra la traversa il Fossacesia non riesce ad impensierire la capolista e al ventesimo Dosantos manca l'appuntamento con il gol a pochi passi dalla porta sul potenziale assist calibrato da De Giglio all'improvviso però gli ospiti trovano il gol del 2-1 esattamente alla mezz'ora con Zarate che vede Didonato fuori dai pali e con un pallonetto millimetrico realizza forse uno dei gol più belli del campionato il Fossacesia però stuzzicando il diavolo lo fa infuocare e il Teramo prontamente reagisce con De Giglio che realizza la sua doppietta personale al 34esimo con un tiro letteralmente imparabile un minuto più tardi azione confezionata dai nuovi entrati Santi Rocco e Rei conclusione di quest'ultimo respinta da Antonelli al 40esimo il Teramo cala il poker con un bel gol di Massarotti mentre al 49esimo Santi Rocco scrive la parola fine con la rete del definitivo 5-1 per la capolista è la 24esima vittoria stagionale con annesso primato consolidato per il Fossacesia arriva invece la matematica retrocessione in promozione per la squadra dei Trabocchi ci saranno ancora altre 4 partite da giocare da onorare con l'augurio di rivederla presto in eccellenza mister arriva questa vittoria ricordo insomma quanto avevi detto alla vigilia che bisognava stare concentrati Teramo a marce basse nel primo tempo poi anche un lampo loro nel secondo da lì come dire il diavolo si è svegliato avete chiuso insomma in maniera definitiva il match sì sì oggi è stato un risultato c'è stato un risultato positivo queste sono partite difficilissime da giocare per una squadra come la nostra con una squadra come il Fossacesia che anche l'atteggiamento loro iniziale è che giustamente ci ha aspettato veramente negli ultimi 30 metri c'erano pochi spazi siamo stati bravi nel fare subito gol con dos sul calcio d'angolo forse abbiamo abbastato troppi ritmi abbiamo fatto il gioco del Fossacesia nel primo tempo invece noi dobbiamo alzare i ritmi perché ogni volta noi calziamo i ritmi poi possiamo far male a tutti quanti ci siamo adagiati al loro atteggiamento e in queste partite poi capita che un'azione un contropiede alla squadra avversaria rischi poi di prendere il pareggio e poi è dura però alla fine c'è stata una gestione importante della squadra come detto tu poi sul 2 a 1 loro che è stato un euro goal un grande goal c'è stata un'ottima reazione abbiamo fatto una grossa partita dai mister arriva a questa sconfitta però la squadra ancora una volta secondo me ha avuto un atteggiamento a testa alta ha fatto la partita che doveva fare ha trovato anche un bellissimo gol nel secondo tempo poi come dire stuzzicato il diavolo insomma il Teramo poi ha segnato altri tre gol mister sì nuovamente una prestazione di carattere dei ragazzi vi faccio i complimenti perché domenicalmente danno tutto anche durante la settimana si allenano sempre a mille questo è da riconoscere è una squadra che ha voglia di giocare ha voglia di fare purtroppo l'annata è andata come avete visto ma sempre a testa alta usciamo anche oggi abbiamo detto la nostra un gran gol di Luca Luca ce l'ha queste giocate spero insomma che abbia un bel futuro come giocatore perché ha tutte le caratteristiche per poter andare avanti altre quattro partite da giocare insomma poi il prossimo anno in promozione con l'augurio mister di rivedere presto il Fossa Cesia in eccellenza sì sì le ultime quattro le continueremo a giocare così non regalando niente giocandocele tutte cercando questa prima vittoria in casa che la vogliamo a tutti i costi quindi ci prepariamo questa settimana proprio per questo e poi a fine anno tiriamo le somme vediamo come si ripartirà ma si ripartirà sicuramente con decisione con carattere per fare un gran campionato l'anno prossimo il teramo il teramo che consolida il primato in classifica di tutto questo appunto si parlerà come sempre domani a lunedì d'eccellenza vi ricordiamo l'appuntamento alle ore 21 tra poco appuntamento in diretta alle ore 20 e 30 insomma tra pochissimi minuti con Domenica Sport condotta da Matteo Falzon ringraziamo Pietro Baldassarre e Francesco Di Carlo in cabina di regia un saluto anche da parte di Fabrizia ciao a tutti ciao Lorenzo ringrazio la regia ringrazio sempre tutti coloro che ci hanno seguito e vi diamo appuntamento tra due settimane quindi ci prendiamo una pausa anche noi e Abruzzo d'eccellenza torna domenica 7 aprile sempre solo su Super J ciao a tutti ciao a tutti